Non siamo un partito, non siamo una casta, siamo un città. Il corteo a Milano non è una manifestazione qualsiasi, né è una ragione qualsiasi quella che ha portato tutti voi per le strade stasera. Tanto più dunque mi spiace non essere lì con voi, a dimostrare con forza che abbiamo gli occhi e le orecchie aperte, che siamo pronti a reagire, che non passerà nessun tipo di intimidazione, né grande né piccola. Grazie dunque, grazie perché dimostrate di non essere disposti ad accettare simili gesti come quello di sabato scorso. Grazie per essere ancora una volta lo specchio dell'Italia migliore. La vostra voglia di reagire serve a tenere accese le nostre coscienze nel difendere quello che di più prezioso abbiamo, il nostro impegno civile per la legalità contro ogni infiltrazione mafiosa. Milano non potrà e non dovrà essere una città nelle mani della criminalità organizzata, ma sono convinto che dobbiamo tenere alta la guardia affinché questo non accada. Il fatto che in pieno giorno sia accaduto un episodio così grave non può che farci riflettere su questo, non è un bel segnale, non avremo paura. L'impegno del Comune è forte e condiviso, sono certo anche da tutte le altre istituzioni. Come sapete, qualche settimana fa ho indicato 5 esperti che si occuperanno di antimafia nel nostro territorio e si impegneranno con la futura Commissione del Consiglio Comunale che sarà istituita a breve. Su questo non faremo passi indietro, per il bene di tutta Milano e di tutti noi cittadini. Giuliano Pisapia, sindaco di Milano Non siamo un partito, non siamo una casta, siamo ciechi.